Quando uno ha una grande bocca, tanto vuole e nulla stringe... Ma che cosa cazzo? Ma non diciamo pansane! Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentrovati in una nuova video recensione, precensione, da poco non dico precensione, di Matti Vape sul canale di Matti Vape. Di cosa andiamo a parlare oggi? Andiamo a parlare di dei liquidi che mi sono arrivati 200.000 anni fa e sono i Big Mount, che hanno una confezione un pochettino... Aspetta che sistemiamo la maglietta, ecco... Che hanno una confezione un pochettino particolare, ma molto interessante, perché ve lo dico dopo. Ma adesso non indugiamo... La confezione di questi liquidi è enorme, cioè è una scatola che sembra... Non lo so. Però sono veramente fighi, perché all'interno hanno il Cloud Boost e l'Ice Boost, cioè, volendo, ci sono delle boccettine all'interno... Che adesso vado ad aprire... Ci sono delle boccettine all'interno, inoltre ha un ciabino molto comodo, vuoto da 30 ml, se non mi sbaglio, che vanno a mettere l'Ice Boost, quindi se lo volete fare bello fresco, o il Cloud Boost, per fare ancora più vapore. Interessante come idea! Voglio... Voglio andare a provarli! Eh, cadi tu! Tu fai il cazzo che vuoi, toh, vai là allora, ciao! Stronzo! Oddio, sono tantissimi! Da solo è difficile fare sta roba qua. Abbiamo l'Eurora, che deve essere ghiacciosissima. il Mojito Knights, che penso sia Mojito, il Real Deal, che è limonissimo, e il Cactus. Non devono lasci! Io direi che l'Eurora lo lasciamo per ultimo, il Mojito pure, Real Deal, oppure partiamo al contrario da come pensavo. Allora, madonna mia che complicato fa sta roba tutto da solo. Allora, ammusiamo! Boh, sembra una limonata come. Il limone c'è di sicuro. Una granita, peggio ancora. Andiamo. Svapare. No. 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 Questo mi sembra un detersivo. No, non mi piace. No, 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 no. Non mi piace per niente, perché mi sa proprio... No, è meglio che non lo dica. Se posso dire... Stai zitto! Tu devi stare zitto! Non mi piace. Questo sembra la stessa cosa. Qua c'è il limone... Red Tea, Real Deal. Limone Lime, possibile. È più o meno uguale il sapore. Oh, no. No. Mi dispiace. No, meglio che non lo dico, quello che penso, perché sarei veramente troppo cattivo in questo momento. Fa piacere che abbiano deciso di spedirmeli, li ringrazio, ma no, per il momento non ci siamo ottenuti niente. Mojito! Si sente la menta. La menta? E basta. No. E' la prima volta che mi trovo in difficoltà, ragazzi. E' la prima volta che mi trovo in difficoltà a non trovare un liquido su quattro che mi piace. Tirano al detersivo, no, non mi piace. No, proprio no. Mi dispiace veramente tanto. Speriamo che l'ultimo... Non capisco cosa possa essere. No. Non mi piace il sapore. Non... Continuo a non capire cosa sia. Non c'entra nulla col ghiaccio. Ah, forse è aloe. Ok, mi pare che sia aloe e ghiaccio. Dei quattro è quello che mi stupisce di più perché c'ha l'ingrediente aloe, mai provato prima, ma non mi piace. No, no, no. Mi dispiace per Big Mount, ma non mi piacciono. Riesco... Non riesco proprio a svapparli. Non ce la faccio. L'idea è carina dell'ice boost, del cloud boost, ma non mi sconfiltra. Proprio no. Mi dispiace veramente, ma mi piacciono. Se li trovate, provateli. Magari a voi piacciono. Però io proprio non mi ci trovo. Mi dispiace. Mi faccio fatica veramente, quindi non voglio andare più lungo di così. Vi ringrazio se il video dovesse essere piaciuto, vi invito a mettere mi piace, condividere il video, iscrivervi al canale, attivare la campanella per le notifiche del mio canale. Con l'ultima svappata vi saluto. Se il video non vi dovesse essere piaciuto, come Big Mount, beh, vi facciamo la lingua. Siamo dentro, in questa merda sono al centro, il quinto elemento, fuori in mezzo al vento. Scrivo il mio testamento, con 3 G nel giacchetto, questi danno 5 e si prendono 100. Quelli pop è morto, vero avevo detto, no che non la smetto.